andiamo a vedere tutti i prodotti che ho di qua allora, sempre nel kit passato mi era stato inviato queste 5 cartine sono cartine che le riutilizzi quando vuoi io onestamente mi sono sempre trovata male infatti non le ho praticamente mai usate ad oggi sul cataloghino le trovate a 8,90€ sul sito io non le ho più viste quindi non so se ci sono ancora poi ci sono le cartine normali ce ne sono 500 adesso io non vi so dire se qua ne ho ancora 500 perché nel kit anni addietro non mi pare che ce ne fossero così tante però ad oggi sono vendute 500 a 5,90€ quindi sono tantissime adesso vedete non credo proprio perché per lo spessore che hanno le ho usate poco quindi non vi so dire bene le andrò a riutilizzare poi in questi giorni che voglio riprovare a fare l'allungamento a proposito di allungamento ho il gel monofasico shining da 5ml che è il prezzo di listino è 8€ però in questo momento il store lo vende a 7€ quindi lo trovate lì e questo l'ho in realtà preso poi all'interno di un kit che vi faccio vedere dopo anzi ve lo faccio vedere adesso aiuto sto cascando allora il kit in questione oddio non c'è non l'ho segnato aspetta eh ah no è questo è questo qua che mi non l'ho segnato qua è il dezamore kit l'ho comprato poco prima di di Natale ciao sì di Natale di San Valentino l'ho pagato in totale 29€ e comprendeva l'olio per le cuticole che ho comprato singolarmente viene 4,50€ poi c'era il colore One Touch a scelta del magazzino che normalmente il prezzo base sono 12,90€ ma adesso l'hanno messo in offerta a 9,90€ è arrivato questo qua poi il primer quello base che è questo che non è quello senza acidi ma il primer base che se no viene a costare 12,90€ poi c'erano tre lime che adesso ho spostato che le ho fatte vedere prima e poi c'era anche questa mini lampadina che viene 9€ RefLED Lamp quindi tu metti il dittino qua sotto partono i led bisogna collegarla io adesso non ce l'ho collegata e vi funziona per quando dovete rifare appunto un'unghia singola e poi c'era è vero c'era anche questo il il monofasico che io ho comprato perché ho il problema che mi si spezzano le unghie e quindi voglio provare a utilizzarlo stendendolo come base smalto normale poi ci vado a mettere il semi permanente sopra perché tanto lo sapete con i gel base i gel per la ricostruzione vanno benissimo poi metterci il semi permanente e voglio provare che se poi va bene compro una confezione più grande comunque vedete che offerta quindi qua non era 41,90€ era di più ho sbagliato scrivere io l'ho pagato solo 29€ adesso questa offerta non c'è più però fateci caso che sul sito ce ne sono ce ne sono veramente tante andiamo avanti qua mi sono comprata l'espositore da 48 spazi costa 5€ così posso mettere tutti gli smalti ad oggi non l'ho ancora usato ho usato le tip semplicemente perché aspetto di avere almeno 48 colori per fare una bella colorazione dappertutto poi avevo questo kit da 10 bastoncini d'arancio a 2€ anche questo l'avevo comprato in passato in passato avevano la punta così e la punta piatta guardando i video di alcune collaboratrici con la ditta sembrano tutti e due con la punta piatta io ad oggi non li ho ancora comprati quindi non visto dire questo appunto è di parecchio tempo fa anche la spazzolina mi era stata spedita col kit anni addietro ad oggi costa 1,50€ questa quatonda ma se non sbaglio ci sono quelle dritte che costano solo 1€ costano di meno ad ogni modo questa invece viene 1,50€ poi ultimamente mi sono presa questa tavolozza io me la sono scelta viola ovviamente ma ci sono anche altri colori che viene 3€ che serve appunto per miscelare i colori per fare le decorazioni con l'acrilico ma se volete se dovete miscelare anche degli smalti o di gel o qualcos'altro può andare benissimo a me torna comoda perché a me mancavano appunto le tavolozze poi qua uno potrebbe dire che cos'è sta roba è il poggiadito serve per quando uno vuole fare le decorazioni di nail art o di precisione sulle dita di un'amica della cliente di chi vuole intanto l'altra persona che si deve far decolare rimane comoda perché è appoggiata e tu riesci a lavorare bene sul dito l'ho già utilizzato mi trovo molto bene costa 2€ anche questa c'è bianca rosa nera e trasparente io l'ho presa trasparente anche se vedete che si rovina un po' più facilmente ve lo consiglio magari più sul nero io se riesco poi magari ne compro due perché mi trovo più comoda però ad oggi ne ho una e viene 2€ e secondo me va benissimo poi qua ci sono i prodotti dei semipermanenti perché tanto adesso andiamo a vedere anche tutti i semipermanenti che ho allora no partiamo da questo partiamo da quello che serve all'inizio allora questo è lo spray disinfettante per mani e piedi ci sono 200ml al suo interno e costa 8,90€ ha una profumazione leggera e delicata molto buona non unge le mani quindi viene si spruzza una volta su una mano e sull'altra e si spalma ti disinfetta le mani sia sulle tue che su quelle della persona su cui vai a fare il lavoro e io lo trovo delicato mi trovo benissimo e poi come vedete non se ne usa moltissimo quindi dura parecchio poi qui c'è lo sgrassatore eccolo qua il cleaner sgrassante che va bene sia per il semi permanente sia per i gel perché comunque va a togliere la dispersione che si forma dopo la stesura e dopo la lampada e quindi va bene sia per uno che per l'altro sono 100ml questa è la confezione piccola e viene 5€ invece qua abbiamo lo strip off remover nel video del tutorial ho detto wrap remover mi sono sbagliata perché il wrap remover è quelle cartoncine tipo di carta stagnola che vendi nel store ecco perché ho sbagliato comunque anche qua 100ml e costa 7€ questo se ne usa un pochino di più come vi ho già detto io faccio un po' fatica a rimuovere il semi permanente di nel store c'è chi dice che se finisce questo liquido sull'unghia cioè sulla pelle diventa opaca e bianca a me è successa una volta sola voglio provare poi quando ne comprerò un po' di più perché qua usandolo sul pad ne uso già tanto figuriamoci nel modo in cui adesso vi spiego ci sono anche dei contenitori in cui tu metti a mollo completamente le dita voglio provare poi a metterlo a mollo per vedere se è proprio il semi permanente che è difficile da mandare via o se bisogna semplicemente mettere più liquido io con un altro semi permanente quello che mi avevano fatto quando ero andata a farmi le unghie in realtà è andato via subito quindi mi viene da pensare che sia il loro semi permanente che è un po' difficile da mandare via però voglio fare ancora quella prova per constatare se è vero o no mentre vi faccio vedere questo vi prendo un attimo il catalogo aspettate che trovo la pagina perché allora intanto oltre al disinfettante mani e piedi allo stesso prezzo sempre 200 ml trovate anche il disinfettante per gli attrezzi che serve soprattutto se voi appunto fate le unghie a qualcun altro poi il cleaner sgrassante c'è in tanti formati il 100 ml 500 ml 1 litro e 2 litri vedete che poi convengono le confezioni più grandi ad oggi il cleaner sgrassante bene o male vi basta il 100 ml soprattutto se lo fate solo tra di voi vi basta quindi invece per quanto riguarda il remover aspettate che lo trovo dunque eccolo qua mi sa che io poi dovrò puntare al 200 perché se ne usa parecchio e quindi mi sa che il prossimo dovrò andare su quantitativi poi più più grandi vedremo volevo solo farvi vedere che c'erano anche altri prezzi allora adesso invece vi vado a far vedere i colori dei semi permanenti mi sposto così trema tutto dunque i colori in questione c'è tutto il semi permanente sono tutti questi qua che vedete allora mi metto laterale così ve li faccio vedere e le tip in prova sono qua vedete i colori sono quelli ve li porto poi a vedere man mano che vi faccio vedere il colore allora intanto partiamo guardiamo questi qua che appunto vi dicevo sono l'olio per cuticole allora adesso ne hanno tantissimi fatti con dei profumi buonissimi questo è quello all'arancia e viene 4,50 euro voi mi avete visto in passato questo questo è in odore e come vi ho detto ha deciso che non vuole mettersi a fuoco allora come vi ho detto questo era era l'oro di parecchi anni fa infatti il formato è diverso ma in entrambi i casi ce n'è 15 ml allora 15 ml di prodotto il profumo è veramente strepitoso si sente un sacco vi faccio vedere anche qua che ce ne sono di vari generi aspettate che trovo dove sono i semi eh sì ciao i semi permanenti allora ah qui che vi ho fatto vedere vedete qua ci sono i vari colori della tavolozza ce ne sono parecchi potete scegliere quello che vi piace di più allora dovremmo esserci quasi ta 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 dove sono? eccoli qua eccoli qua gli onli per cuticole guardate quanti ce n'è veramente ne hanno tantissimi infatti poi vorrò averli tutti devo poi provare a provarli tutti e sentire che profumano e ad oggi io ho solo questo qua all'arancio ma ce n'è di ogni genere proprio c'è di tutto poi allora qua ci sono due primer differenti quello di prima che vi ho fatto vedere quello il primer universale a 12,90 euro e poi c'è il primer acid free quindi senza acidi a 15 euro io li ho entrambi perché perché io ho delle unghie un po' delicate quindi mi serve il primer acid free mia madre che ha delle unghie molto grasse con solo questo primer non gli riesce a fare molto da mediatore di aderenza a lei ho dovuto prendere questo qua normale che è un pochino più aggressivo usiamo sto termine e infatti ad oggi le durano di più le unghie fatte così poi qua troviamo le basi c'è la base il keep on base top coat alta densità e bassa densità entrambe vengono 9,90 euro l'uno la mia preferita è la bassa densità perché si stende molto meglio inoltre quella bassa densità quando lo si sgrassa tende ad opacizzarsi di meno l'alta densità purtroppo tende a diventare leggermente più opaco quindi non rimane lucido 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 lo smalto una volta che è stato usato adesso io poi voglio comprare un top coat senza che non c'è bisogno di essere sgrassato perché mi serve soprattutto quando faccio i decori con gli acrilici che noto che sgrassando poi il top coat messo dopo la decorazione acrilica non mi rimane tanto bene mi porta via un pochino il colore quindi comunque vi consiglio quella a bassa densità quella ad alta densità dovete essere molto brave ad utilizzarlo per riuscire a stenderlo bene questo 15 euro e 90 è il quick finish sparkling ve l'ho fatto vedere in questa nail art dove rimane glitteroso e non ha bisogno di essere sgrassato quindi l'ho provato apposta sulla mia decorazione per non sgrassarlo però non tutti vogliono avere una decorazione per forza glitterata quindi andrò poi a comprare quello base che mi pare che venga 12 euro e 90 o 9 euro e 90 aspettate che guardo così ve lo dico giusto perché anche quello non deve essere sgrassato eccolo qua 12 e 90 e questo qua allora visto che ci sono che ve lo stavo facendo vedere prima e non l'ho fatto vedere subito dopo capodanno ho ancora approfittato e se non sbaglio ci ho ancora adesso dell'offerta kit on my nails dove costerebbe 32 euro e 90 a prezzo pieno ma ad oggi costa 14 euro e 90 e trovate una base adesso ho sbagliato ho preso quella sbagliata che di solito è quella a bassa densità poi trovate il quick finish sparkling che appunto è perfetto poi trovate un sock off il sock off non so se ve l'ho già detto ma forse si non mi ricordo il sock off sono i semi permanenti semplicemente quello quindi vi danno un sock off in offerta che non potete però scegliere voi è una polverina glitter a me ne è arrivata una marroncina non è molto utile e come sock off porca miseria non mi ricordo quale mi è arrivato in regalo mi era arrivato questo qua il 30 il 30 e questo aspettate che ve lo prendo eccolo qua e questo arancione mi era arrivato il 30 come smalto sì perché bene o male quando acquistate questi kit vi mandano i colori gli ultimi usciti e quindi vi consiglio di approfittarne perché avete visto quello da solo costa 15,90 euro il quick finish sparkling cioè approfittatene subito ovviamente allora andiamo a guardare i colori il Dez Amore Kit mi è arrivato il one touch il one touch in questione è il numero 17 ed è questo fucsia qui purtroppo è arrivato con un difetto nel pennellino allora cosa ho fatto? ho scritto a info chiocciolai nel store.com dicendogli di questa cosa e loro molto carinamente mi stanno rispedendo tramite posta ordinaria il pennellino da andare a inserire nel tappino in forma totalmente gratuita comunque il colore era questo poi adesso vi faccio vedere tutti i sock off normali allora il prezzo pieno sono 9,90 euro ma io ad oggi li ho comprati tutti a 6,90 euro quindi tutti in offerta e sono ancora in offerta il one touch vi ho fatto vedere costa 12,90 euro prezzo pieno ma ad oggi è in offerta 9,90 allora questo colore qua che mi è stato inviato come omaggio perché come vi ho detto dopo un tot di spesa vi arrivano degli omaggi non mi è stato segnato il numero ma è questo cioccolato che vedete qua non si vede benissimo è una nutella scura è questo cioccolato quindi non so purtroppo a che numero corrisponde poi il 174 è un altro di quegli semipermanenti che mi sono stati spediti in forma gratuita avevo raggiunto un tot di spesa e mi è arrivato in forma gratuita e questo colore qua come vedete rispetto al 30 che vedrete e anche che vi ho fatto già vedere è molto più chiaro è più un arancione neon questo l'altro è un arancione più normale poi il 171 l'avete visto è questo che ho in mano ve lo faccio sulle unghie ve lo faccio vedere anche da qua questo l'avevo scelto io perché mi piaceva un sacco quindi l'avevo acquistato io il 170 invece se me lo mette a fuoco così vedete che vabbè è questo fucsia glitterato qua è veramente molto molto bello l'ho messo su mia madre le sta da dio è bellissimo mi piace un sacco poi il 108 anche lui che è molto bello in realtà mi è arrivato con il difetto quando mi è arrivato con il difetto io non sapevo di doverlo comunicare quando ho lasciato la recensione del prodotto dove ho detto che era bellissimo perché il colore è stupendo purtroppo non riuscirò molto a metterlo perché il pennellino è rovinato quindi non avevo chiesto niente a nessuno dopo due giorni che ho lasciato la recensione mi è arrivata un'e-mail da parte di nail store dove mi dicevano che si scusavano per questo disagio e mi avrebbero inviato gratuitamente il pennellino da cambiare e così è stato infatti ho detto wow come fanno a dire che non c'è un'assistenza buona dopo è ottimo senza avergli chiesto niente loro mi hanno inviato il pennellino nuovo e così infatti adesso lo posso utilizzare sono molto contenta l'87 che è questo bianco che vedete ne ho due per quale motivo perché quando mi è arrivato la prima volta come regalo non c'era il numero da nessuna parte quindi non sapevo che cosa fosse nell'ultimo ordine me l'hanno inviato di nuovo però fortunatamente c'è il numerino e quindi ho potuto riconoscere che è il bellissimo bianco che avete visto anche sulle mie unghie vabbè ho la scorta in questo modo va sempre bene poi il 42 vedete che vi faccio anche vedere la differenza che vi dicevo della confezione che appunto una è più grossa però in realtà appunto ci stanno 15 ml in tutti e due quindi non dovete preoccuparvi allora il 42 aspettate che lo trovo eccolo qua l'ho comprato recentemente ed è questo giallo pastello vedete che questo qua il tappino è bianco è molto molto carino e molto solare quindi ora che si sta avvicinando l'estate vabbè primavera e poi estate è molto bello quindi non vedo l'ora di usarlo poi c'è il 30 è quello che vi ho fatto vedere prima l'arancione che mi è arrivato appunto in regalo io avevo in mente di comprare un arancione non ho bisogno di comprarlo me l'ha mandato loro anche il 29 è stato un regalo la mia fortuna è stata che era esattamente uno dei colori che avrei dovuto poi comprare più avanti ed è questo rosa bellissimo quindi sono stata felicissima che me l'hanno inviato come omaggio poi c'è il 26 il 26 è un semplicissimo nero il primo colore che avevo comprato perché la prima volta che ho fatto l'ordine di semi permanenti non avevo visto i colori originali non sapevo di poterli trovare come vi ho spiegato sulla pagina facebook o tramite email quindi ero andata sul sicuro comprandomi un nero però poi appunto potete chiedere quelli laggiù è tutta la linea olografica la linea olografica costa 12,90 euro io ne ho comprati tre a 12,90 euro adesso li hanno messi in offerta a 9,90 e io li ho completati e li ho presi tutti allora partiamo andiamo in ordine allora l'uno a differenza degli altri smalti qua è segnato vedete c'è scritto olografic viola in questi altri non c'è nessun colore c'è solo scritto smalta semi permanente endless non c'è il colore quindi purtroppo se manca quello non sapete capire che colore è lo vedete aprendo il barattolo però tra tutti quelli che hanno loro quale sarà? comunque questo è il viola ed è questo olografico qui che purtroppo non si vede benissimo eccolo questo qua è l'olografico viola lo adoro poi c'è il 2 che è l'olografico verde che è quest'altro qua adesso dopo magari ve li faccio vedere alla luce del sole poi c'è il 3 che è il rosa è l'ultimo che ho preso ed è questo rosa antico molto fine è molto leggero quindi ci vogliono parecchie passate anche nel verde ce ne vogliono almeno 3 anche questo bene o male ce ne vogliono 3 il viola ne bastano anche solo 2 ed è molto bello questo non ha il numero come vedete ma è scritto qua che è l'argento anche lui è abbastanza chiaro ce ne vogliono almeno 3 anche questo dopo ve li faccio veramente vedere al sole perché scusate ora non rendono sta andando attraverso poi c'è il 5 che è l'azzurro ed è questo qua allora vi sposto l'inquadratura al sole eccoli qua cioè vedete che vale proprio la pena di vederli qua alla luce del sole guarda che roba sono stupendi bellissimi sono meravigliosi io per ora ho provato solo il viola e il verde ma non vedo l'ora di usarli tutti allora come smalti come stesura io li trovo perfetti alcuni sono più densi tipo il one touch è un pochino più denso da stendere però bene o male se si pulisce bene il pennellino quindi senza caricare troppo di prodotto il pennellino si riescono a stendere benissimo come basi vi ho detto io preferisco la base a bassa densità proprio perché mi trovo più comoda nello stenderla loro sono una densità media tra bassa e alta loro sono una via di mezzo i colori quindi dopo un po' magari uno se non è abituato che è più abituato alla densità degli smalti normali gli smalti normali sono liquidissimi in confronto quindi ci prendi un attimo la mano e poi riesci a stenderli benissimo e quando i pennellini sono a posto e non hanno quei due difettucci come quelli che erano arrivati a me che poi ho sostituito con i pennellini nuovi viene steso in modo ottimale lo smalto non c'è da lamentarsi perché non cola non rimangono bozzi strani a meno che voi non volete ottenerli non afficcate più colore da una parte o dall'altra una cosa quando viene messo in lampada catalizzato non si toglie la dispersione viene poi messo il colore sulla punta tende a ritirarsi un pochino ma basta fare un po' attenzione e mettere bene il prodotto sulla punta dell'unghia senza esagerare comunque non so se ve l'ho detto prima o nell'altro video le due lampade sono ottime anche se sono leggermente diverse la diversità dove sta? allora tutti e due hanno il timer di 120 secondi e tutti e due hanno la possibilità di far andare sempre avanti i bulbi UV sempre accesi la differenza sta che in questa qua grigia ha anche il timer dei 90 secondi l'altra no in 90 secondi questa torna utile mettendoci appunto i bulbi LED che la catalizzazione è in meno secondi quella va meglio però uno al massimo tira fuori la mano prima non succede niente di male se catalizza qualcosina in più basta basta non esagerare per altre cose in generale tutti gli altri prodotti io mi trovo bene i mini tagli a cuticole li riesco a usare tranquillamente lo spingi cuticole questo lo trovo migliore rispetto i bastoncini di legno però lì bisogna vedere uno come si trova la spazzolina tonda io mi trovo molto bene con questa tonda però per 50 centesimi in meno uno può anche usare la spazzolina quella più dritta che a proposito non ve l'ho fatta vedere ma c'è così vedo anche se ho detto il prezzo giusto si vedete un euro queste qua quindi uno fa un po' come si trova meglio ovviamente sulle lime ad oggi io sto usando soprattutto questa qua da 80 a 100 questa con questa forma le altre le devo ancora provare questa è una lima lucidante quindi devo provare anche quella soprattutto per quando mia madre non vuole più lo smalto ma vuole le unghie lucide allora si va ad utilizzare questa i buffer mi trovo benissimo anche questi che è particolare mi trovo molto bene le altre lime e le lime buffer non le ho ancora provate perché preferisco provarle quando faccio un po' di ricostruzione quando faccio l'allungamento o provarle su me stessa quando ho preso più dimestichezza anche con tutti gli altri prodotti che sto usando adesso queste le ho prese in offerta ma ho intenzione di provarle poi un po' più avanti quindi non vi so dire benissimo personalmente come mi trovo ma so di molte ragazze che si trovano da dio quindi sicuramente vanno vanno bene per il resto bene o male vi ho detto tutto come mi trovo poi man mano che vi faccio vedere tutorial cose varie vi ridico come mi trovo con i prodotti quindi quindi praticamente penso di avervi bene o male detto tutto quello che potevo dirvi come esperienza personale come vi ho detto ho dovuto dividere purtroppo il video in due parti perché sennò veniva veramente lunghissimo ma intanto vi lascio il link della prima parte qua sopra quindi lo potete andare a vedere la prima parte ve lo lascio scritto anche nell'info box e questi sono tutti i prodotti adesso vi dico ancora due cosine velocemente e poi ho finito con la review dei prodotti della Inelstore come vi ho detto mentre vi facevo vedere i semi permanenti colorati in questo momento Inelstore sta facendo delle offerte dove superato un tot di acquisto di prodotti vi regalano loro dei prodotti a scelta se non sbaglio superati i 30 euro d'ordine vi viene regalato un kit lime quindi vi mandano in un sacchettino varie lime di vario genere di vari colore di vari spessore di varie grammature di vari stili a loro scelta quindi non potete sceglierlo voi superati i 50 euro d'ordine invece vi inviano un sock off che ve l'ho già detto anche prima è il semi permanente un semi permanente colorato sempre a scelta loro a me come vi ho detto me l'hanno inviati due senza numero poi uno me l'hanno rinviato doppio col numero quindi ho recuperato il numero superati invece i 100 euro di ordine vi mandano un kit di semi permanenti dove c'è una base che normalmente vi mandano quella a bassa densità che ripeto è la migliore per me e poi tre colori sempre a loro scelta ci sono alcuni kit all'interno del sito i kit più costosi soprattutto dove siete voi che potete scegliere le colorazioni che volete all'interno del kit ce ne sono altri come quelli che ho praticamente preso io dove non hanno una spesa alta perché non superi 29-40 euro ma anzi non penso che non superi 30 euro in quei casi lì dove in realtà i one touch o i sock off normali colorati non li andate a scegliere voi bisogna sempre sperare che vi mandino un colore che non avete io l'ultima volta li avevo mandato nell'ordine gli avevo scritto tutti i colori che avevano alla fine mi hanno rimandato il bianco ma meglio così perché adesso so che colore è comunque lo uso parecchio almeno c'ho la scorta quindi ah si poi ogni spedizione che vi fanno in base al tipo di prodotto che voi avete acquistato vi viene spedita o all'interno delle buste imbottite oppure all'interno di scatoloni in base scatole in base a quanto prodotto e che prodotto c'è dentro possono essere imballate o solo con quel materiale da imballaggio quello che fa le bollicine che le schiacce fanno rumore e di solito tutti i semi permanenti in vetro tutti i prodotti in vetro sono ben saldati ben coperti lì dentro quindi anche se sballottolano non possono rompersi se no vi mandano anche li utilizzano per tenere fermo bloccare il prodotto che c'è all'interno della scatola adesso io li ho buttati miseriaccia se non vi facevo vedere delle confezioni gonfie strane sono alte tipo una spanna di una plastica trasparente verde e sono gonfie come quando mangi una merendina gonfi il sacchetto e ti rimane la cosa gonfia così sono un'imbottitura di questo genere in ogni pacco vi arriva il loro catalogo adesso a me continua ad arrivare questo qua del 2005 probabilmente non sono cambiati moltissimo i prodotti quindi continueranno a inserire i prodotti base più che altro continueranno a inserire questo ma ogni volta ve ne arriva uno il mio avete visto vi ho messo ho insegnato tutte le cose che ho perché così ve le faccio vedere bene e tutte le cose che vi mandano oltre a essere imballate così sono dentro ha dei sacchetti di plastica con la zip quindi è bello anche quello che a me essere uno quei sacchetti tornano utili infatti ho tutto richiuso di dentro così non ti prendono polvere tutto perfetto quindi anche comunque la confezione in cui vi arriva è bella tranquilla tranquilla potete stare tranquille voi che non si distrugge nulla e poi viene messa nelle buste di plastica spesso vengono poi inserite all'interno delle bustine dell'SDA se no in quel caso vi arriva lo scatolone tutto sigillato con la scritta in Nestore sopra e quant'altro adesso al prossimo ordine se ne farò un altro quando non lo so vi farò vedere lo spacchettamento del pacchetto così vedete appunto come è strutturato uno dei contenitori che vi mandano per i vari ordini e quindi nulla penso di avervi detto tutto spero di sì perché qui era molto vasto da parlare se ho dimenticato qualcosa intanto parlerò ancora di questa ditta vi farò vedere altri tutorial altre cose usando i loro prodotti quindi al massimo man mano dirò le cose che ho dimenticato nei prossimi video io vi saluto grazie per aver subito questo video lunghissimo fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se anche voi utilizzate i loro prodotti e come vi trovate e adesso vi saluto ci vediamo tra due giorni un bacione ciao a presto a presto a presto